eccolo ragazzi Gordon Ramsay burger con questa grande fiammata andiamo a provare questo ristorante ragazzi qui a Las Vegas qua vendono sia i libri di Gordon che alcuni gadget come i cappellini speriamo che sia buono ragazzi andiamo sapori intensi atmosfera casuale vedremo ecco cosa dovremmo aspettarci Gordon i burger famosissimi di Gordon Ramsay burger veramente di alta qualità andiamo a provarli è arrivato tutto le patatine sweet potato con delle salse sconosciute ma soprattutto ragazzi eccolo qua sua altezza reale il burger di Gordon Ramsay ora vi dico cosa c'è dentro e vediamo se sarà all'altezza del maestro Gordon Ramsay assaggiamo allora nelle patatine Ramsey mette lo zucchero a velo una novità tutta sua assaggiamo assaggiamo fantastiche le sweet potato con lo zucchero a velo buonissime nel burger invece ragazzi all'interno c'è blue cheese gorgonzola marmellata di piqui un formaggio mancego spagnolo un pecorino e ovviamente il burger e una maionese assaggiamo la cottura io ho scelto una cottura media anche se l'hamburger sempre ben cotto diciamo è buono anche lì voglio essere coraggioso e assaggiare le patatine anche con questa salsa che non conosco assaggiamo troppo particolare per me ho scoperto che cos'è una salsa aioli miele e peperoncini jalapeno non è male devo dire la verità un vero un vero burger gourmet niente a che fare con quello dei fast food ancora più buono di quello di Beverly Hills che ho mangiato recentemente veramente fantastico andiamo a vedere però quanto abbiamo speso è arrivato il conto Gordon Ramsay burger planet hollywood un burger blue cheese un burger farmhouse le patatine totale 48 dollari diciamo 50 più 8 di mancia 8 9 circa 57 dollari per due burger di Gordon Ramsay qui a Las Vegas fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao